Musica Guarda che difficile che per noi salire dentro, credi? Non è semplicissimo Vuoi che gli togliamo il giubato? Sì, il giubato non si può però con il giubato Intanto, dall'emozione si sono riscaldati anche se il giubato Non lo scorso È muscoloso il tuo papà però, eh? Muscoloso? Adesso lo leggo io Adesso gli dai un po' di info di navi Eh? Tutte le citture Eh sì, adesso lo leggo Se ne dico sbaglia, grida Sì, guarda che se andiamo dritti è colpa tua Gridagli, perché non capisci niente E' uno che non capisce niente E' bene Papi Poi mi metti i piedi meglio Sì 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 Allora, vedi Jacopo, per accendere si gira questa che è la batteria Perché senza la batteria non va in moto Poi si tira su questo quadro che è il computer Sì Adesso si accende tutto il quadro e la pompa della benzina inizia a buttare la benzina al motore bisogna aspettare che entri un attimo la benzina altrimenti si rischia di non metterla in moto e poi si schiaccia l'accensione che è a bottone si dà un po' di gas perché questi motori qua hanno bisogno sempre di stare un po' di giro altrimenti non vanno in moto ok quindi schiacciamo abbiamo anche le cinture tu hai detto che vedono un video lo vedono tanti ragazzi bisogna sempre dirgli che bisogna sempre mettere le cinture anche se stiamo con me abbiamo l'ora ora è il casino di questa macchina è la visibilità perché non si vede quasi niente però la cosa bella è che nomini la strada allora il problema di queste macchine è che quando fanno un po' di strada le gomme si stormano tanto perché con la terra quando siamo sull'asfalto adesso vedrai potrebbe succedere che ci vibra tantissimo la macchina è a volante, fa così quindi bisognerà tenerla ma quindi sono la sentinaia di metti e due tinei sono tanti quindi avrò sono tanti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.